Come abbiamo l'Unione Europea forte, potranno fare anche le sue risorse per fare un sviluppo sostenibile, oppure l'Europa tagliare, perché per il resto del mondo si concentrano in questa direzione delle forze enorme. Quindi l'ha proposta non è soltanto una proposta così e in direttare suverso il tutto, ma di trovare le risorse necessarie per l'intervento, capiamo di più grande. Grazie.